No, no, non me ne frega niente delle scarpe, le scarpe le trovi d'anzalando, qua trovi le pozioni di cura, quindi forza, l'unica cosa che posso fare è cercare dei cestini della sbazzatura perché qua non c'è nessuno disposto a comprare qualcosa, scherzavo, però è proprio qua, arrivate subito, 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 aspettate un secondo, allora, perfetto, la mia prima spada, eccola qua, e ciao a tutti ragazzi, qui Tundering Light e oggi siamo tornati su Shop Keep, se mi sentite così tranquilli perché ho un po' di voce rauca, comunque l'episodio precedente, siamo rimasti a questo punto qui, abbiamo lasciato la pozione, le due pozioni di cura, la pozione perde, è lo scudo che ci farà guadagnare qualche pezzoglino, quindi forza, abbiamo giorno 2, oddio santo sta voce, allora, magari si sbrigano un po' ad arrivare perché non ho tutto il giorno, l'avete capito tutto il giorno, fase, mattina, cioè devo aspettare fino a sera, cioè in effetti ho tutto il giorno, però non qui, quindi forza smuovetevi, guarda, sì sì, Potter, anzi già che ci sei, chiama pure Harry, lo fa venire qua, ok, che pure mi fa pubblicità, no no, non me ne frega niente delle scarpe, le scarpe le trovi da salando, qua trovi le pozioni di cura, quindi forza, oh, dai, un piccolo salto qua dentro, no, va bene, grazie, almeno tu dai, la gente se ne frega, fine, l'unica cosa che posso fare è cercare dei cestini da spazzatura perché qua non c'è nessuno disposto a comprare qualche scherzavo, Moby Romero, perfetto, il guerriero, perfetto, dai, lo scudo, compra lo scudo, no, grazie, mi ti uccido, bravo, aspettate un secondo, allora, scudo, e, ok, sì, perfetto, sono arrivato, attento, siamo arrivati con solo 5 soldi, scherzavo, scherzavo, forza, comprare, bravo, ok, perfetto, ora, funziona questo qui, e questi due qui, oddio, santo, ok, forza, forza, comprate che voi da tante shop, forza, appena un b, appena quanto t'ammazzo, ok, perfetto, grazie, arrivederci, ah, giusto, ah dai, i guadaghi si vedono, oh, forse no, si dai, compra lo scudo, dai, come avevo previsto nell'episodio precedente, ci mancano pochi soldi per acquistare la spadozza, quindi forza, per acquistare la spadozza, quindi forza, per acquistare la spadozza, quindi forza, per notare quanto queste, se le cavi qualcuno, eh, forza dai, comprate, se le cose senza soldi, vediamo, ora probabilmente arriva qualcuno che si compra qualcosa, e io si credo, vediamo qui, perché mi servono anche, allora vedete in alto a destra, vicino a XP, quelle K, e tu muori, ecco, lo benigni qui dieci secondi prima, dai, Maledotta Sì ma quando è che arriva intanto l'organizzazione perché altrimenti io non posso fare altro Oh finalmente, comunque mi stavo dicendo giusto, vedete quelle K con i numeri da 0 a 150 E così quelli si alzano ogni volta che qualcuno compra qualcosa e fanno guadagnare i punti skill Con i punti skill io posso prendere degli upgrades Quindi con l'oro, quindi con il gold posso espandere qui E la madonna prima di arrivare a 10.000 ci metterò un secolo Però è proprio con... Arrivate subito, 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 aspettate un secondo Allora Perfetto Allora Vi stavo dicendo Secondo me, a mio parere È proprio con i punti skill che si acquistano le robe migliori Cioè si prendono gli upgrade più belli Vediamo intanto quanti punti skill abbiamo Vediamo Vediamo Aspetta, hai comprato qualcosa Ah, la pozione Perfetto Prima squadra Eccola qua Ora Ora Vediamo se qui Niente rifiuti Dai, non è giusto Nell'aggiornamento precedente ce ne erano tantissimi Forza comprare che non so Ah, non è giusto Sono scemo Prima devo aumentare il prezzo Perfetto Perfetto Ok E ora Il negozio di nuovo Pieno Perfetto Tutto l'edificio qua è il mio? Come minimo pensavo fossero le mura di attacco Titan Però No, evidentemente questo è il mio negozio Scusa, ma prenditi una palla da demolizione Qualcosa Distruggi Mi servono diecimila oro Perché con diecimila di botti d'oro Li ammasso tutti i laser Spawn Quindi Oh L'altro è me Oh Paff Grazie Questa non me la riprendo E non ho fatto niente E' stato colpito da lira di dio Da un fulmine Forza dai Compra la spada No No Non c'è ancora nessuno Allora ti devi importare della spada Non di ste pozioni di cura Proprio ora che ci stiamo espandendo Tu ti vai a comprare le pozioni di cura E prima no Dove sei? Come si stava pagando là? In una maniera assurda Allora Direi che mi stai qui E via Allora Ah questo dovevo vedere i punti skill 27 Ora Con questo Tecnicamente E quel maschile Non era una portal gun Mi dovrebbero arrivare Più velocemente Gli ordini Giusto? Spero di sì Perché io Non ho spuntato al vento 25 di skill Di cappa Giusto? Ehi da Dai Perfeccio Contra la spada Non scusate la detenzione Sì A pinja pu La sorella A pinja pu Guardate a questo Ah ma No dai Sì serio Cioè entrano per comprare Delle ridicole pozioni di cura E non per comprare una meta Una mega spadozza Qua Cioè Proprio perché siete dei guerrieri Da dovreste comprare Quale un'immilazione Basta La metto A 110% Non di meno Noi evening Ma non c'è niente Meglio ritornare Prima che la Entri Non sia mai Che entra qualche ladro E frega qualcosa Senza che ci sia io A dargli una lezione Comunque allora Vediamo Nessuno vuole entrare Dai qualcuno Ehi Come cacchio fai A passarmi attraverso Sono morto Ecco perché nessuno Entra nel mio negozio Ah no Questo è centrato Non ha paura dei fantasmi Però io Madonna Sto detestando Ste Pozioni di cura Vaffan cura Però In tutto questo Mi son dimenticato Di riparare Qui Mori da stronti Dove Oh Ciao Ecco cosa succede Se è lui Ah ecco Finalmente è apparso Sto portale Giuste Giuste Tre Perfetto E dai Tu vuoi lo scudo Ma comprati La spada Che è Cento volte Meglio Eccoli Sto entrando In negozio No Basta Pozioni di cura Avete Rotto I cosiddetti Quindi Comprate Anche Quella povera Spada Esclusa E marginata Ok Perché L'ho pagata Un occhio Della testa Altrimenti Quella spada Te la picchi Un occhio Della testa Quindi Non facciamo Sti caso E' questa O compro la spada O Uccido Ma A due centimetri Di distanza C'è Una cosa Affidata Chiamata Spada Plainsword Cosa ti costa Comprarla Te la dico io Niente Vedo Come ultimo Se qua c'è qualcosa Non c'è niente Perfetto Sì dai L'abbiamo fatto Vediamo Io però Prima vorrei ordinare Uno di questi Vediamo E la Si vede la differenza Vabbè E dovevo ordinare due Io sono una persona Scema Per ora ci metto Questo Grazie Ultima Buonanima Grazie Aspetta Un secondo Che la Ricompro Subito E stavolta Ci aggiungo Anche Due altre Potion Imprint Dov'è Ok E lo shop E' stato salvato Ok Voglio vedere Intanto Quanti punti skill Ho guadagnato Quindi Vediamo Subito Qui Tre Ma Seriamente Tre Con tutte Ste Robe Che Scusate A che cosa serve Cioè Quando La voglia Voglio mettere L'effetto Qua sopra Non ho capito Però Nel duro Intanto Io Vado a posizionare Questi Qua Perfetto Abbiamo finito Anche la giornata Numero due E anzi Avanza qualche altro Saldo Quindi Possiamo comprare Anche Lo scudo Vediamo Vediamo Se abbiamo I soldi Anche Per Per Tre Soldi Niente Ragazzi Non ho Che dire Nel dubbio Sparsi I movimenti Ecco Perfetto Vediamo Se è tutto Riparato Ecco Perfetto Allora Per questo video Mi sa che posso Concondere qui Quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Aspettate un secondo Questa volta Non mi farò Cogliere il preparato Perfetto Ok Quindi Allora Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Se volete Se volete Seguitemi Anche sui social Che trovate Qui in descrizione Inoltre Se volete Lasciate un bel commentino Che non mi dispiace Se volete Iscrivetevi Che tanto mi fate un favore E quindi Al prossimo video Che non mi dispiace Che non mi dispiace Che non mi dispiace